Domani sono previste nuove raffiche di vento, vento che intensifica soprattutto in un territorio collinare e montuoso come la provincia di Como il rischio di incendi. Da Regione Lombardia è arrivata l'allerta meteo per rischio di incendi boschivi date le provisioni meteo che segnalano appunto una intensificazione del vento domani. Il Comune di Como raccomanda di non utilizzare petardi e giochi pirotecnici e di non accendere fuochi in prossimità di zone boschive. Peraltro Palazzo Cernezzi ha anche vietato ufficialmente botti e petardi su tutto il territorio comunale di Como. Nello specifico l'ordinanza del sindaco Mario Landrescina vieta dalle 14 di oggi alle 8 di domani di accendere e far esplodere petardi, mortaretti o artifici simili in tutti i luoghi pubblici o privati in cui si svolgono manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico, in tutte le vie, piazze e aree pubbliche particolarmente frequentate o comunque in vicinanza di altre persone, in particolare bambini e anziani. E poi ancora a una distanza inferiore di 100 metri da ogni luogo di ricovero, cliniche, ospedali, casi di cura e di riposo, in presenza di animali domestici nonché in direzione degli stessi e a meno di 100 metri da ricoveri e allevamenti di animali. Infine a distanza inferiore a 100 metri da aree boschive o a rischio incendio e da terrazze e balconi. Divieto ovviamente dal quale sono esclusi gli operatori professionali. Come da tradizione il nuovo anno verrà salutato da uno spettacolo pirotecnico a ritmo di musica nel primo bacino del lago di Como.